Buongiorno, ben trovati con il notiziario di Prealpina.it, che apriamo col maltempo che si è abbattuto questa mattina sul Varesotto, creando pesanti disagi sulle strade. Vediamo il seguito. Quello che vedete è il maltempo che si è abbattuto questa mattina in Valcuvia tra Bedero e Brinzio, un muro d'acqua che ha messo a repentaglio la sicurezza stradale, causando pesanti danni per l'ennesima volta. È stata chiusa la strada provinciale tra Brinzio e Larasa, nella zona della Motta Rossa, per uno smottamento. Problemi alla viabilità anche sulla provinciale tra Bedero, Valcuvia e Ganna. Allagata la carreggiata da ieri sera sono oltre 50 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco. Situazione critica anche a Luvinate, dove il torrente Tinella è fuoriuscito sulla strada. Piccole frane e smottamenti anche a Quassolmonte, Lavena-Ponte-Tresa e Brusimpiano. E parliamo adesso di Olimpiadi. È sfumato l'obiettivo medaglia per il ciclista verbanese Filippo Ganna, arrivato quinto nel cronometro. Ganna ha fatto un'ottima prova, ma è rimasto per pochi secondi giù dal podio. La gara del ciclista piemontese è iniziata questa mattina alle 9.10 ora italiana. Ganna è partito per ultimo forte del titolo di campione del mondo, ma la medaglia non è arrivata. E ora la cronaca, spostandoci a Gallanate, è stato arrestato lo storico clochar dell'ospedale, un 48enne accusato di vari reati. Si era masturbato in neonatologia, aveva minacciato di morte medici e infermieri, devastato il triage e rapinato un medico. L'indagine è stata condotta dai carabinieri e coordinata dal PM Flavia Salvatore, della Procura della Repubblica di Busto Assenzio. E sempre per la cronaca resta in carcere Fiorella Lazzaro, la donna accusata del tentato omicidio della madre di 82 anni, è venuto a Mornago. La donna è rinchiusa nel penitenziario di Como, interrogata dal GIP Stefano Colombo, non ha fornito risposte sull'accaduto, di cui è ritenuta responsabile, riferendo solo frasi poco aderenti alla realtà dei fatti di cui è appunto accusata. E infine Varese, imbrattato di scritte e centro storico, sono comparse di notte in corso Matteotti e aree adiacenti. Una delle scritte contro Malteo Salvini dura la presa di posizione della segreteria cittadina della Lega che accusa la sinistra di fomentare l'odio contro la Lega. Il partito di Salvini auspica che attraverso le immagini delle telecamere vengano individuati i responsabili. E con questo è tutto, vi diamo appuntamento al notiziario delle ore 19. Una buona giornata.